Eccoci, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora riprendiamo il nostro racconto da Leonardo a Caravaggio, percorso interessante che ci consentirà di scoprire i significati dei grandi capolavori della pittura italiana, ma anche di entrare in quella fase storica del Cinquecento, o meglio, della seconda metà del Cinquecento, l'epoca del manirismo, un'epoca segnata veramente da guerre, pestilenze, ma soprattutto da quella riforma di Lutero che aveva creato una spaccatura tra cattolici e protestanti. Oggi parleremo di un ritratto bellissimo realizzato da Agnolo Bronzino e quindi entreremo nella Firenze Granducale alla corte di Cosimo I, quindi ancora nel grande periodo in cui i grandi signori commissionavano i ritratti, siamo nella ritrattistica della corte Medicia dove appunto lavorerà Agnolo Bronzino, però un periodo, abbiamo detto, segnato veramente davanti drammatici, perché c'era stata la riforma di Lutero e che aveva creato una spaccatura tra cattolici e protestanti, qui intanto scorrono le immagini dei ritratti realizzati dal Bronzino, ma poi arriviamo alla data cruciale, quella in cui vedremo il 1545, il momento in cui Agnolo Bronzino dipinge il ritratto di Leonardo di Toledo, è l'anno cruciale perché è l'anno in cui la Santa Romana Chiesa risponde alla riforma di Lutero e quindi è l'epoca in cui tutti gli eretici, tutti i simpatizzanti di Lutero vengono condannati a pene terribile oppure a rogo, quindi voi capite che è veramente un evento veramente sconvolgente e così grave di un sistema repressivo che segnò l'epoca del manierismo. Quindi siamo in un periodo di grandi avvenimenti, il sacco di Roma, l'abbiamo detto, era già avvenuto nel 1520 e aveva sicuramente creato delle ripercussioni anche a Firenze dove i medici vennero cacciati dalla città per poi tornare al potere con Cosimo I, granduca di Toscana. E qui arriviamo al ritratto del Bronzino dove noi non troviamo sicuramente i colori degli altri manieristi, i colori di Rosso Fiorentino ma nemmeno del Pontormo. Qui vediamo una freddezza, una autorevolezza anche di una nobile donna che poi è tipica dei ritrati di Agnolo Bronzino, cioè lui riesce a cogliere il ruolo sociale della donna, donna elegante seduta in questa posa di tre quarti, che vedete con questo vestito sontuoso rosso ornato di pizzi, poi porta una cintura con pietre preziosi, le maniche a sbuffo ricciato che terminano poi in altre maniche estraibili secondo la moda del tempo. Quindi Bronzino accoglie sicuramente i grandi effetti, i grandi risalti materici della stoffa, ma poi quella luce assoluta che si riflette sul volto di Lucrezia evidenziando il suo ruolo, il suo potere, la sua condizione sociale e poi quella sorta di malinconia, quella sottile ansia che riesce a cogliere il Bronzino. Vedete, questa è la grande capacità di un settore manierista che poi eseguì altri ritratti come quello del giovane conliuto, anche questa è un'opera oggi conservata agli uffizi, vedete quella capacità di rendere il volto così, un volto corrugato in penombra, lo sguardo accigliato e poi quell'ombra proiettata sull'armadio che allarga la resa prospettica, ma il punto focale del dipinto è appunto la guancia illuminata dall'uomo, dell'uomo ritratto scusate, l'ignoto committente. Quindi vedete lo stile del Bronzino veramente unico, i ritratti sono tantissimi, la dama in rosso con Cagnolino, altra opera eccezionale del Bronzino, qui adesso arriviamo al ritratto di Leonora di Toledo che è appunto con il quale poi Bronzino arriva a dipingere quell'abito veramente elaborato con la resa materica della stoffa, è un broccato ricamato alla spagnola. Ecco questa è un'opera interessante, sicuramente accanto a lei, quindi c'è Leonora di Toledo, accanto a lei il figlio, quindi il ritratto che raffigura la prima moglie di Cosimo de' Medici ed è un vero e proprio manifesto del potere. Leonora di Toledo era la figlia di Don Pedro di Toledo, vice re di Napoli, uomo ricchissimo e figura fondamentale a scacchiera politica internazionale. Quindi donna bellissima, dallo vale perfetto, capelli castani e quel portamento così altero e maestoso che veramente la rendeva distante da tutto e da tutti. Andiamo adesso a vedere un'opera interessante con la quale poi concludiamo che è Venere e Cupido, Venere e Cupido del Bronzino, un'opera veramente difficile da interpretare perché ci sono, per le scelte iconografiche, perché ci sono tanti personaggi, c'è la figura sensuale di Venere, adesso vediamo se c'è un'immagine adagiata in posa, una posa che ci riporta a quella della Madonna di Don Dodoni, di Michelangelo, però la Venere del Bronzino vedete che ha questa pelle di porcellana, è quasi immobile, il suo volto è impassibile e c'è Cupido che sfiora le labbra, ma è una scena particolare perché la rea dell'amore ha questa posa serpentinata, questa acconciatura con diadema, tiene in mano la mela, il pomodoro fa riferimento all'origine, a ciò che ha dato vita a quella discordia, discordia da cui poi è partita la guerra di Troia, poi cosa c'è? Mentre vedete con l'altra mano la Venere, cosa fa? Sfila la freccia dalla faretra di Cupido, Cupido le sfiora le labbra, le stringe il seno e quindi in realtà noi ci troviamo un'opera luminosissima, questo effetto così di porcellana, questo effetto di colori smaltati, la posa spericolata anche di Cupido che è in bilico, che si sporge, che si contorce, che si aggrappa alla madre e poi dietro questo amore sensuale c'è l'inganno, c'è il reciproco inganno, è come se si stessero disarmando a vicenda perché infatti c'è la dea che ha già sfilato dalla faretra di Cupido la freccia e poi c'è Cupido che tenta di sfilare la dea al diadema e poi gli altri personaggi, il fanciullo sorridente che lancia i petali di rose profumate, questo rappresenterebbe il gioco, l'amore, la passione che finisce, svanisce come sfioriscono i petali e poi alle sue spalle l'inganno, l'inganno quella figura, se riusciamo a inquadrare, eccola, che vedi ha il viso d'angelo ma poi nasconde quel corpo squamato, insomma un vero mostro perché in realtà ha le mani in posizione invertite, non so se riuscite a vederlo, è nell'atto di porgere un favo di miele e nell'altra mano invece nasconde la coda di uno scorpione, quindi pensate, veramente ci troviamo di fronte ad un'allegoria dove veramente è difficile da interpretare e quindi poi c'è quel sipario azzurro che rivela la scena perché in alto c'è quell'altra figura, l'anziano, l'anziano barbuto con la clessita alle spalle che appunto sembra svelare togliendo il manto, sembra svelare quella scena, quindi sicuramente un dipinto che poi ha addessato un imbarazzo nell'ottocento, infatti vennero ricoperte le nudità, ma indubbiamente un po' l'opera va interpretata come un ammonimento rispetto all'inganno dei piaceri terreni e questi colori smaltati sicuramente spiccono su quell'azzurro al tremare, ma il tema ovviamente è veramente complesso, quello del bronzino, di un'opera veramente interessante. Ecco io mi fermo qui, continueremo ancora il nostro percorso con Tintoretto per arrivare appunto a Caravaggio. Vi ringrazio tutti, buonasera.